Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 21 novembre di Globus Television. Giovedì nessun peggioramento del tempo atteso sul resto d'Italia, ma soffieranno venti via via più forti di Libeccio in serata. Il tempo sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 23 gradi, minime in calo. Grazie a tutti.